Huawei Watch GT Active. Abbiamo fatto l'unboxing che potete vedere qua sopra e adesso andiamo a fare la vera e propria video recensione. Video recensione che va a rispondere ad una domanda che mi faccio io ma che probabilmente se la state guardando vi fate anche voi. Ma in cosa differisce questo GT Active rispetto alla versione tra virgolette normale? È davvero diverso in qualche cosa oppure no? Scopriamolo insieme. Nell'unboxing che ho fatto l'altra volta abbiamo già visto come sta questo smartwatch al polso abbiamo già espresso le nostre considerazioni di carattere puramente estetico. L'unica cosa che mi ero dimenticato di farvi vedere riguardava per l'appunto il cinturino che come vedete vediamo se riesco esattamente qui vedete è un cinturino che si può cambiare. Per quanto riguarda quindi le caratteristiche estetiche abbiamo finito e adesso andiamo a vedere quelle che invece sono le caratteristiche tecniche. Per aiutarvi e anche per aiutarmi a capire se effettivamente ci sono delle differenze rispetto al GT Classic ho fatto questa tabella comparativa dove ho messo per l'appunto in comparazione a confronto le principali caratteristiche dei due smartwatch e come potete vedere ad una primissima occhiata beh non è che cambi tantissimo anzi cambia poco o nulla. L'unica l'unica cosa su cui veramente sia un cambiamento ma un cambiamento veramente diciamo residuale riguarda il cinturino. Come vedete il cinturino in silicone per quanto riguarda il watch GT Classic mentre abbiamo un cinturino in fluoro elastomero per quanto riguarda i GT Active. Per il resto stiamo parlando di caratteristiche sostanzialmente invariate a partire dal display bellissimo 1,4 pollici per poi andare su tutto il resto. Su cosa mi voglio soffermare? Mi voglio soffermare su un paio di aspetti. Il primo il sistema operativo il sistema operativo è LightOS quindi è un sistema operativo proprietario che vi dà tanto dal punto di vista dell'autonomia e lo vedremo dopo ma proprio perché vi dà tanto dal punto di vista dell'autonomia è costretto a farvi scendere ad alcuni compromessi. Infatti se guardate la riga che vi è dopo il sistema operativo indicata come RAM più storage voi leggete 16 megabyte e 128 megabyte. Avete letto bene? Non siete stati portati indietro al mondo del computer degli anni 90. Questi sono i dati di RAM e di storage e capite bene da questi dati che non vi è la possibilità di caricare su questo smartwatch la musica che voi preferite. Quella la dovete caricare sul vostro smartphone. Proseguendo con le caratteristiche più importanti attenzione bene perché questo smartwatch non ha wifi, ha il bluetooth 4.2, ha tutti i sensori del mondo, ha il gps integrato, ha il monitoraggio del sonno molto bene implementato ed è resistente all'acqua fino a 5 atmosfere quindi va bene per tutti i nuotatori. Queste sono le caratteristiche tecniche principali di questo smartwatch e adesso andiamo a vedere come se la cava con la gestione delle notifiche. Come se la cava con le notifiche questo Watch GT Active? Beh diciamo che potrei saltare questa parte perché potrei rimandarvi semplicemente all'analoga sezione del Watch GT Classic perché la gestione delle notifiche non cambia in nulla. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi accedete alle notifiche attraverso uno swipe verso l'alto. Qui vedete che vi sono le varie notifiche che vi possono arrivare da Instagram oppure dalla mail oppure in questo caso anche da un messaggio WhatsApp. Voi potete cliccare sulla notifica e qui termina sostanzialmente la gestione delle notifiche. Perché dico che termina la gestione delle notifiche? Perché non vi è la possibilità di rispondere alle notifiche. Quindi questo smartwatch è uno smartwatch che funziona per quanto riguarda le notifiche in semplice ricezione. Nel momento in cui voi volete andare a rispondere in qualsiasi modalità voi dovete prendere in mano lo smartphone. Tra l'altro questo smartwatch non ha l'assistente vocale. Quindi che dire questa è una caratteristica che da subito non mi era piaciuta perché a me interessano particolarmente le notifiche e la gestione delle stesse. È una caratteristica secondo me negativo che metterò in rilievo alla fine ma è anche una caratteristica che non è stata trascurata da Huawei ma è una scelta di campo di Huawei. Qui siamo in presenza di uno sportwatch e vedremo poi invece che quello che questo sportwatch toglie o non ha per quanto riguarda la gestione delle notifiche invece lo aggiunge sulla gestione delle attività sportive e del fitness. Sulle notifiche non c'è nient'altro da dire e andiamo a vedere adesso come se la cava invece con il suo punto forte che è la gestione degli allenamenti e dell'attività sportiva. Questo più che uno smartwatch è uno sportwatch. È uno sportwatch perché la parte di fitness e di allenamenti è veramente molto ben implementata ed è anche molto molto completa. Prima di tutto vi è un tasto dedicato per accedere alla parte sport che è questo tasto inferiore. Lo clicchiamo e andiamo proprio alla parte degli allenamenti. Facciamo una brevissima carrellata degli allenamenti che sono disponibili. Abbiamo la corsa guidata, la corsa all'aperto, la corsa al chiuso, passeggiata all'esterno, alpinismo, corsa cross country, bicicletta all'aperto, ciclette, nuoto al chiuso, nuoto all'aperto, triathlon. Mi soffermo sul triathlon perché questa è una delle pochissime novità rispetto alla versione normale, chiamiamola così, del Huawei Watch GT. Tramite software è stata implementata anche la funzione triathlon, quindi il rilevamento di questa attività. E poi abbiamo altro. Quindi una serie di allenamenti davvero ben implementata e direi anche completa. Andiamo avanti questo noto focus su fitness facendo un allenamento al chiuso, quindi andando a vedere quanto è preciso la rilevazione del battito cardiaco sotto differenti gradi di sforzo. E andiamo a vedere anche come se la cava con il fixing del GPS all'aperto. Qui siamo all'aperto, adesso avviamo la ricerca dei satelliti e se contate potete vedere che dal momento in cui ho avviato l'applicazione al momento in cui va a trovare il segnale dei satelliti passano più o meno 13 barra 15 secondi. Quindi direi che da questo punto di vista questo sportwatch è assolutamente promosso. Andiamo adesso invece a vedere come se la cava con il rilevamento dell'allenamento. Iniziamo con una corsa al chiuso, selezioniamo, come vedete sulla destra sta prendendo il battito cardiaco, adesso tra poco lo prende, 85 e come vedete è assolutamente allineato con il rilevamento della fascia cardio. Adesso iniziamo il nostro allenamento con varie fasi di sforzo fisico. Inizieremo con una camminata leggera, camminata leggera che come in questo caso è per quanto riguarda la frequenza cardiaca allineata con la fascia cardio. Come vedete sulla destra è cambiato da blu a verde perché cambia la fascia di allenamento, poi vedremo esattamente come significa. Qui corsa un po' più veloce, come vedete i battiti sono abbastanza allineati, qui invece andiamo a una corsa ancora più veloce e qui 158 contro 157 barra 158. Quindi sulla precisione del battito cardiaco direi che questo sportwatch è ineccepibile. Terminiamo l'allenamento e vediamo le informazioni che ci dà che sono veramente tante. Andiamo dagli effetti dell'allenamento sino alla distanza, alla durata, alle calorie consumate, alla velocità dell'allenamento, ai passi che abbiamo compiuto durante lo stesso allenamento, la frequenza cardiaca, l'andamento con i picchi 163-82 e questi sono i colori che vedevate prima. Quindi queste sono le varie fasce di allenamento, avete fatto un minuto di estremo, due minuti di anaerobico, un minuto di aerobico e così via. La trovo un'informazione molto interessante per gli sportivi. La cadenza intesa come media di passi al minuto, il ritmo che avete tenuto e poi infine i tempi di recupero. Quindi direi che per quanto riguarda il summary dell'allenamento che voi andate ad effettuare questo sportwatch è assolutamente ineccepibile. Sono veramente tante le informazioni che vi dà alla fine dell'allenamento e direi anche che è abbastanza preciso per quanto riguarda la rilevazione del battito cardiaco e trovo molto interessanti le distinzioni che questo sportwatch fa sulle fasce cardiache a seconda che voi siate in una soglia aerobica oppure anaerobica. Applicazione non cambia nulla rispetto alla Huawei Watch GT, l'applicazione Huawei Earth. Andiamo ad aprirla. Nella prima schermata questa applicazione vi dà un riassunto di quello che avete fatto durante la giornata. Interessante è il dettaglio esercizio, se ci cliccate sopra voi potete andare a vedere proprio un dettaglio della vostra attività fisica e se cliccate ancora sopra lui vi dà una mappa dell'attività fisica, della camminata o corsa che sia che avete fatto. Vi può dare questa mappa naturalmente perché è uno sportwatch che ha il GPS integrato. Torniamo indietro, come vedete sotto vi dà anche tutta una serie di informazioni su sonno, peso e frequenza cardiaca. Io mi vorrei soffermare sul sonno perché trovo che la rilevazione del sonno di questo sportwatch sia una delle meglio implementate in assoluto se non forse la migliore. Guardate un po' qua, riposo notturno, 6 ore e 9 minuti, lui attraverso i colori vi distingue tra fasi di sonno REM, riposo leggero, riposo profondo e naturalmente sveglio e vi fa vedere l'andamento di queste fasi durante la notte. Vi dà un punteggio relativamente alla qualità del vostro sonno, qui vi è una diagramma torta che vi fa vedere le diverse fasi del vostro riposo e poi vi dà anche delle informazioni su quanto è stato normale dormire quell'arco di tempo in sonno profondo piuttosto che in sonno leggero piuttosto che in sonno REM. Quindi io ho avuto un'alta percentuale di sonno leggero ma ho avuto una bassa percentuale di continuità nel sonno profondo. Se voi volete sapere cosa significano queste scritte sostanzialmente cliccate e vi dà una descrizione davvero molto molto approfondita come potete vedere delle varie fasi di sonno. Senza un problema di dubbio l'implementazione, lo sleep tracking è il migliore che io abbia visto in tutti gli smartwatch o sportwatch che ho testato fino a questo momento. Andiamo invece adesso in alto a destra dove vedete l'iconcina dello sportwatch, ci clicchiamo sopra e si va in una parte dove si controlla lo sportwatch. Si ha la possibilità di andare a cambiare, a gestire i quadranti dell'orologio che in ogni caso sono gestibili anche direttamente dallo smartwatch, si ha la possibilità di attivare oppure no Huawei True Sleep che abbiamo appena visto. Un focus lo vorrei fare sulla parte delle notifiche, quindi qui voi potete attivare le notifiche dello sportwatch e poi selezionare da quale applicazione volete ricevere la notifica oppure no. Piccolo appunto, voi non avete questa parte se associate lo sportwatch ad un iPhone, perché attraverso iPhone voi potete semplicemente decidere se attivare oppure no le notifiche, ma non potete decidere da quale applicazione ricevere le notifiche. Cosa invece che, come vedete, potete fare se avete uno smartphone Android. Non mi dilungo ulteriormente su questa applicazione, nel senso che è uguale, identica all'applicazione che serve a controllare il Huawei Watch GT in versione classica. E allora, parliamo di autonomia, ma prima di parlare di autonomia, vediamo invece com'è il caricabatterie. Il caricabatterie è un caricabatterie a induzione, vedete che ha questi due pin dorati che devono coincidere sullo smartwatch con questi altri due pin. Quindi, voi lo mettete qua dietro e lui si ricarica. Tra l'altro il caricabatterie ha una presa USB di tipo C. Si ricarica in circa un'ora e mezza, ma la buona notizia, ottima notizia di questo smartwatch, è il fatto che, davvero, voi potrete trovarvi nella condizione in cui non trovate più il caricabatterie, perché non vi ricordate più dove l'avete messo. Questo per dirvi cosa? Per dirvi che l'autonomia di questo smartwatch è davvero, davvero eccezionale. Huawei dichiara due settimane di utilizzo e devo dire che, secondo i miei calcoli, secondo l'utilizzo che ne ho fatto, ci si va veramente vicini. Io nel mio utilizzo ho constatato un draining della batteria che va giornalmente dal 7 al 10%. Poi chiaramente 10% se utilizzate tanto il GPS se vi arrivano tante notifiche, mentre siamo nell'ordine invece del 7% se invece non utilizzate il GPS e vi arrivano meno notifiche. In ogni caso è veramente una batteria incredibile, ma più che batteria incredibile, perché stiamo parlando di 420 mAh, qui dobbiamo fare un plauso al sistema operativo proprietario che è LightOS. Perché la cosa che più stupisce sulla durata di questa batteria, che quindi va davvero vicino a dato dichiarato, se non raggiungerlo tranquillamente di due settimane, dicevo la cosa che più stupisce è il fatto che una batteria di 420 mAh deve andare a gestire un display AMOLED di 1,4 pollici con una risoluzione di tutt'altro che bassa. Quindi non stiamo parlando di un display come quello per esempio dei Garmin, che è Transflective, che sì vi dà una grande autonomia, ma per il quale dovete scendere a tanti compromessi sulla qualità dei colori e sulla risoluzione. Non in questo caso, qui potete godere di un gran bel display e davvero potete raggiungere le due settimane di autonomia che Huawei pubblicizza per quanto riguarda questo smartwatch. E quindi le conclusioni su questo Huawei Watch GT Active. Avevamo iniziato questa video review con una domanda che era in cosa differisce rispetto al GT Classic. E a questo punto, se avete seguito tutta la video recensione, vi siete dati tutta la risposta. Se invece non l'avete seguita e siete arrivati solamente a questa parte, ve la do io. Non differisce in pressoché nulla. Sì, stiamo parlando di piccole differenze estetiche, stiamo parlando di cinturini con materiali diversi e colori diversi, stiamo parlando di qualche dettaglio relativo alla cassa, ma i materiali sono quelli, la batteria è quella, la risoluzione dello schermo è quella, il sistema operativo è quello e tutte le funzionalità sono quelle del Huawei Watch GT normale. tranne l'implementazione su questo Active nella lista degli allenamenti, anche della parte relativa al triatron. Ma davvero, mi sembra troppo poco per definirlo uno sportwatch diverso da Huawei Watch GT. Ho detto sportwatch non a caso, perché come Huawei Watch GT, la parte smart è davvero implementata a livello basico. Come avete visto, voi potete ricevere le notifiche, ma non potete rispondere in alcun modo. Quindi, a chi consiglio questo GT Active? Lo consiglio a tutti quelli che prediligono la parte sport di monitoraggio degli allenamenti, ma anche di monitoraggio del sonno, che è fatta benissimo, rispetto alla parte smart. Non lo consiglio sicuramente a tutti quelli che utilizzano lo smartwatch come se fosse un sostituto dello smartphone per rispondere alle chiamate, perché non c'è l'autoparlante, o per rispondere alle notifiche, perché l'ITOS non ve lo fa fare. Lo consiglio a tutti quelli quindi che hanno bisogno di uno sportwatch, che vogliono dimenticarsi del caricabatterie, che odiano ricaricare il proprio sportwatch ogni due giorni, perché con questo arriverete tranquillamente a 12-14 giorni di autonomia. Lo consiglio a tutti quelli che vogliono uno sportwatch che non sia semplicemente funzionale, e questo lo è, ma sia anche bello da mettere al polso. Da questo punto di vista, niente da dire. I materiali sono di primo ordine e, esteticamente parlando, questo è lo sportwatch secondo me più riuscito tra tutti quelli che ad oggi ho recensito. Ma in ultima analisi, ne consiglio l'acquisto? Che dire, su Amazon oggi lo trovate a 250 euro, il che è anche un prezzo giustificato per la qualità costruttiva. Peccato che voi troviate anche il Huawei Watch GT Classic, che come ho detto non ha nulla di diverso rispetto a questo, se non piccoli particolari estetici, ebbene, trovate il Classic ad un prezzo che varia dai 160 ai 170 euro. Quindi mi riesce difficile consigliare l'acquisto di questo sportwatch, perché si tratterebbe di spendere 90 euro sostanzialmente per avere un cinturino dal colore diverso e con un materiale diverso. Troppo poco, a mio avviso, per giustificare questa spesa. È tutto per questa recensione, spero di avervi dato tutte le informazioni necessarie e utili per acquistare oppure no questo Active. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like se vi è piaciuto il video, e che dire, ci vediamo alla prossima video recensione. Ciao a tutti!